La nascita di Gesù a Bethlehem Quest'anno della fede, inoltre, è un anno in cui la Chiesa e il Papa ci invitano a crescere nel nostro amore, appunto nella nostra fede per Dio, e che la luce da Bethlehem illumini questa fede. Mi auguro inoltre che possiamo vederci qui in Terra Santa per l'inaugurazione del Magdala Center, che speriamo poter fare verso la fine dell'anno della fede. Vi chiedo ancora l'appoggio generoso delle vostre preghiere e anche l'appoggio materiale per poter portare avanti quell'opera per la Terra Santa, per i pellegrini e per tutto il cristianessimo. Mando a tutti un saluto cordiale e un grande abbraccio. Che il Signore vi benedica a tutti. Grazie, buon Natale. Grazie.